buonasera londra oggi parliamo di una dieta che ormai c'è in giro da un sacco di anni ci stiamo riferendo alla dieta zona quali sono i pregi quali sono i difetti ma soprattutto andiamo a vedere se funziona partiamo proprio da questo ultimo punto la dieta zona funziona assolutamente sì come tutte le diete che obbligano le persone ad avere un controllo su quello che stanno introducendo e quindi non a mangiare liberamente la dieta zona se seguita la lettera sicuramente funziona magari ce lo potete scrivere nei commenti chi l'ha seguita che risultati ha ottenuto probabilmente nel primo periodo ha avuto ottimi risultati col passare del tempo avrà prima o poi raggiunto un blocco metabolico ma questo succede nemmeno nel male con tutte le diete in ogni caso un pregio che stesso tempo anche un difetto della dieta zona è quello di obbligarti a mangiare seguendo determinati blocchetti in cui c'è una ripartizione di macronutrienti fissa e questo obbliga la persona ad avere un controllo sull'introduzione del cibo Barry Sears il suo inventore come tutti gli autori sulle diete parte da un dato di fatto sbagliato ovvero che le calorie non esistono ci fosse mai un inventore di una dieta che dice no le calorie esistono la fisiologia aveva ragione ma a parte questo punto Barry Sears comunque propone una dieta abbastanza bilanciata in cui mangiamo 40 per cento carboidrati 30 per cento proteine 30 per cento grassi questo secondo il suo autore è la ripartizione ottimale dei vari macronutrienti sempre secondo Barry Sears questo va a stimolare in modo positivo gli ecosanoidi buoni che cosa sono gli ecosanoidi noi quando pensiamo agli ormoni pensiamo sempre all'insulina il glucagone al testosterone al gh a tutti quegli ormoni che vengono riversati nel flusso ematico ma in realtà il nostro corpo produce tantissimi altri ormoni secreti dalle varie cellule che hanno un'azione sulla cellula stessa che l'ha prodotto su quelle vicino quindi la modulazione ormonale non è soltanto sistemica attraverso il flusso ematico ma è anche locale secondo Barry Sears la dieta zona permette alle cellule di produrre più ecosanoidi buoni di abbassare lo stato di infiammazione e di stare meglio purtroppo queste affermazioni di Barry Sears non hanno mai trovato un riscontro scientifico non è mai stato dimostrato che la ripartizione 40 30 30 sia quella ottimale è comunque interessante il punto su cui si focalizza l'autore consigliando anche l'introduzione di omega 3 per andare a bilanciare una dieta occidentale troppo indirizzata invece sugli omega 6 e quindi Sears è se vogliamo un po' l'autore degli equilibri sia tra i macronutrienti sia tra gli acidi grassi la dieta zona pur avendo un 40 per cento delle calorie introdotte con i carboidrati è abbastanza carbofobica infatti Sears consiglia di introdurre i carboidrati da fonti a basso indice glicemico prevalentemente da frutta e da verdura consiglia anche una ripartizione su più pasti e quindi di non fare soltanto i canonici 3 ma di farne almeno 5 questo regime alimentare è stato adottato soprattutto dagli sportivi ma nel tempo come è normale che sia ha prestato molto il fianco a diverse critiche la prima se vogliamo è quella di dire che le calorie non esistono tant'è che la dieta zona funziona nel momento in cui segui dei blocchetti che se vai a vedere quante calorie corrispondono sono una dieta ipocalorica quindi alla fine Mary Sears ti porta a mangiare meno a introdurre meno calorie ma per lui le calorie non sono il fattore fondamentale per l'omeostasi lipidica l'altra critica è che la ripartizione 40 30 30 non è mai stata dimostrata come rapporto ottimale tra i macronutrienti anche perché Sears si concentra sull'insulina dicendo che l'insulina è un ormone tra virgolette cattivo antagonista del glucagone che invece è buono ed ha una ripartizione di macronutrienti che non è detto che abbassi l'indice insulinico infatti negli anni si è scoperto che non sono soltanto i carboidrati a stimolare l'insulina ma sono tutti i macronutrienti e spesso un mix dei macronutrienti porta ad alzare ancora di più questo ormone pancreatico Sears piuttosto si sarebbe dovuto fermare all'indice al carico glicemico perché è vero che una ripartizione di 40 30 30 porta ad avere meno il picco glicemico postrandiale ma non sempre l'aumento della glicemia è correlato all'aumento dell'insulina in un altro video abbiamo visto che introdurre delle proteine stimola la produzione di insulina ma stimola anche la produzione di un suo ormone antagonista il glucagone quindi col pasto che consiglia Sears in realtà c'è la stimolazione di diversi ormoni anabolici che sono sicuramente favorevoli a una miglior composizione corporea ma non per i motivi che dice la dieta zona anche suddividere la percentuale 40 30 30 in tutti i pasti ha oggettivamente poco senso sicuramente il pasto pre e post allenamento può fare a meno del 30 per cento di grassi mentre quando mangiamo lontano dall'allenamento possiamo introdurne di più quindi sarebbe stato forse e dico forse più interessante se lui dava questa indicazione nel corso delle 24 ore non obbligando alla fare per ogni pasto infine l'ultima critica che possiamo apportare è quella di aver utilizzato le percentuali e non i grammi per chilogrammo di peso corporeo di massa magra o di massa totale a seconda della formula che vogliamo utilizzare perché ragionare in percentuale ormai sappiamo che ha poco senso se io introduco il 30 per cento di proteine in una ipercalorica ne sto introducendo sicuramente di più che un 30 per cento in una ipocalorica ormai sappiamo che le proteine meno calorie introduciamo più ne dobbiamo assumere se ci fermiamo alle percentuali meno calorie stiamo introducendo e anche meno proteine mangiamo in ogni caso per concludere la dieta zona rimane una dieta bilanciata una dieta che pone l'accento come tutte le altre su dei cibi salutari su dei cibi idratati e come per tutti i regimi alimentari finché uno ci crede finché è aderente alla dieta e sicuramente si porta a casa i risultati il nostro giudizio sulla dieta zona rimane comunque positivo soprattutto per il momento storico in cui è stata ideata oggi ci sono strategie alimentari sicuramente migliori ma questo è normale fra dieci anni tra vent'anni ci saranno strategie ancora più ottimali di quelli che stiamo utilizzando oggi muhamed ali diceva che un uomo che dopo 30 anni ha ancora le stesse idee che aveva prima è un uomo che ha sprecato 30 anni della sua vita grazie a tutti grazie a tutti